Riconversione green di Piano Dardine insieme si può. Il presidente della provincia Domenico Biancardi in visita stamane allo stile di Piano Dardine per ringraziare i dirigenti e le maestranze per l'apporto fornito a Vigili del Fuoco in occasione delle operazioni di spegnimento dell'ICS rilancia la necessità di adeguamento delle aziende del nucleo industriale, ipotizzando però una sinergia istituzionale utile ad attingere fondi per rinnovare e mettere in sicurezza gli stabilimenti. Bisogna avere un'adesione anche con la visione della regione Campania che ci deve aiutare in questo senso e quindi noi dobbiamo fare delle buone progettualità per renderle poi presentabili e ci vuole anche una normativa che dovrebbe semmai adeguare anche l'attuale Stato che noi abbiamo per poter consentire anche l'adeguamento. Quindi c'è tutto un lavoro che bisogna fare e che da queste purtroppo disgrazie non si fa altro che poi insomma sollecitare tutti gli enti così come la provincia, la regione, il comune, l'ASI insomma a fare il proprio dovere per accelerare questi sistemi di adeguamento. È stata l'occasione stamane allo stir per tracciare anche un bilancio dell'attività dell'impianto di Piano Dardine dopo la chiusura del termovalorizzatore di Acerra e l'accoglienza di 3.000 ecoballi allo stir. Siamo oltre 2.000 e come da programma siamo andando avanti, adesso aspettiamo segnali da Napoli di riapertura di Acerra e quindi come da programma dovremmo ultimare questo abbancamento tra il 7, massimo il 7 di ottobre e quindi riprendere mano a mano poi il conferimento di Acerra. A proposito di impatto ambientale ed emergenza rifiuti, a chi gli ha chiesto del discusso biodigestore e a chi anche il presidente Biancardi risponde non deve essere un'imposizione, bisogna condividere la soluzione con i sindaci e le comunità del territorio. Oggi c'è un progetto anche per chi anche mi pare che c'è il biodigestore che pare che sia in una situazione molto avanzata però bisogna anche rispettare il territorio e quindi bisogna anche ascoltare tutti i sindaci, gli amministratori e le associazioni che cosa dicono. Insistere e creare una frizione insomma non è una cosa piacevole. Trovare una soluzione invece che sia comune a tutti, quella è la soluzione indicata. Noi abbiamo visto che per l'Alterpine c'è anche la possibilità perché ci sono anche delle situazioni diverse però bisogna anche sapere ascoltare, bisogna individuare le aree, investire e quindi è lì che bisogna colloquiare con il territorio.